Nell'area urbana abbiamo una vera e propria rivoluzione perché 42 minuti per andare da Casalecchio a Pianoro credo che sia un tempo che è competitivo con qualunque altro mezzo. Importante soprattutto in orario lavorativo dove arriviamo a 4 treni l'ora a partire dal 19 settembre. E anche per il resto della linea significa che chi magari vive a Sassomarconi e deve andare a fare una visita medica al Sant'Orsola può scendere alla stazione San Vitale e in 10 minuti a piedi essere all'ospedale. Quindi significa avere una maggiore permeabilità della città non solo in zona stazione centrale ma anche in tutto il resto dell'area perché sappiamo che le persone lavorano a Pianoro, le persone lavorano a Borgo Panigale, sono tutte stazioni che afferiscono a sedi produttive quindi è importante portare i lavoratori con il treno che è sicuramente più comodo e meno stressante dell'automobile.